Il DL Rilancio penalizza una parte rilevante dell'imprenditoria agricola, di fatto esclusa dall'esonero del pagamento dei contributi previdenziali relativi al primo semestre 2020 e quanto denuncia in una nota il direttore regionale della CEA Sardegna, Alessandro Vaca, che chiede la rimodulazione del provvedimento con l'estensione dei vantaggi anche ai lavoratori autonomi, il rimborso dei versamenti già effettuati dagli imprenditori entro il 16 luglio e il riconoscimento degli sgravi contributivi per i giovani agricoltori insediati nel 2019. Se l'obiettivo è superare le difficoltà economiche generate dal Covid-19 e la ripresa produttiva dei comparti agricoli in crisi definiti dal DL Rilancio, l'esonero del versamento contributivo deve riguardare anche centinaia di migliaia di lavoratori autonomi agricoli, ossia coltivatori di reti, imprenditori autonomi professionali, coloni e mezzadri, prosegue il direttore Vaca. Anche queste figure professionali hanno subito in pari misura al rispetto ai datori di lavoro i rilevanti danni economici causati dal blocco delle attività commerciali, e hanno pertanto bisogno dello stesso supporto concreto e immediato da parte delle istituzioni. Secondo l'Associazione Agricola l'esclusione è una decisione assurda che crea disparità tra le imprese e danneggia particolarmente le piccole aziende che costituiscono la maggior parte del tessuto agricolo sardo. Chiediamo che il DL Rilancio venga il più presto rivisto e che si ponga a rimedio a una situazione imbarazzante che mette in ulteriore crisi tutti i coltivatori. Avendo inoltre lavoratori autonomi agricoli già provveduti al pagamento della prima rata IMSS entro il 16 luglio 2020, la CIA chiede il rimborso delle quote versate oppure la compensazione nei futuri adempimenti contributivi, conclude il direttore Vaca.